Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 266, 6 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. Per lavori è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Aglio e Pian del Voglio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1, rallentamenti tra Monte Catini e Pistoia. Sulla Fipilì un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare. Sulla statale 1 Aurelia, chiuso in entrata e uscita in direzione Livorno lo svincolo di Follonica Est. Può versi Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!